Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sulla Wii U Nuovo video relativamente perché non ne ho ancora fatto nessuno Diciamo che è il primo video che faccio sulla Wii U, a parte l'unboxing Ed è un video che non ha una finalità molto precisa se non farvi vedere il Mi Verse Mi Verse, Mi Verse, non so come... Diciamo Mi Verse, va, che siamo in Italia e quindi lo pronunciamo all'italiana Ed è una specie di social network chiuso, a circuito chiuso per quanto riguarda le persone, gli utenti Nintendo Che in questo momento è esclusiva della Wii U Non so se arriverà su 3DS o se c'è già arrivata tramite un aggiornamento ma non credo Comunque potrebbe anche arrivare in futuro, non lo so Posso solo dirvi che è una figata pazzesca Non vi do giudizi sulla Wii U Anche se devo dire che così detto al volo sono molto 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 positivi A differenza di quanto io abbia mai potuto pensare su questa console Forse penso che sia la console più rivoluzionaria Neanche la Wii è stata così rivoluzionaria col suo telecomandino del cavolo Secondo me questa è veramente una console che negli ultimi anni ha innovato di più Voi adesso mi darete tutti contro a Xbox di qua e PS3 di là Questo è il mio giudizio ed è un giudizio dettato da 2-3 giorni intensivi di utilizzo E vi assicuro veramente intensivi perché questa console vi dà la possibilità di essere utilizzata Un po' dappertutto, non in giro ovviamente ma dappertutto per la casa Siccome io non posso e non riesco a stare fisso sul divano di fronte alla televisione Assolutamente questa console mi dà la possibilità di giocare sicuramente più delle altre Ma non perdiamoci in questo perché non stiamo parlando della Wii U ma di Miiverse Che cos'è Miiverse? È un piccolo softwareino ma neanche piccolo Che come ho già detto è un piccolo social network a circuito chiuso tra gli utenti di Wii U A cosa serve questo social network? Allora, questa è quella che si chiama Piazza Qualcosa Non mi ricordo, c'è un nome strano Ed è una piazza nella quale possiamo vedere Aumentando il livello di zoom Delle persone Che sono associate a gruppi A delle icone Che fanno parte, ovviamente sono icone che Richiamano vari giochi E già qui comincia la prima figata Perché sono, come potete vedere, sono come delle persone che sono qui a gruppo E stanno parlando di un determinato gioco Infatti se io mi avvicino posso vedere dagli utenti di tutto il mondo Cosa pensano per esempio di Black Ops 2 E qui ovviamente non ne becchiamo uno in italiano neanche a morire Però vi faccio vedere che ognuno può sia scrivere un qualcosa Abbasso il volume Sia scrivere un qualcosa Sia pubblicare un piccolo sketch o piccolo disegno Questo è valido per qualsiasi gioco Vedete Batman, Train 2, Assassin's Creed eccetera eccetera Ovviamente immancabile Super Mario Che è la piazza con più persone a quanto vedo E ognuno può fare quel discorso che vi ho detto prima Come vedete ci sono dei disegni molto carini Per esempio prendiamo il disegno di Velvet Possiamo andare al suo profilo Andare sul Nintendo eShop collegato a Mario O visualizzare il post che questa persona ha scritto In questo caso entreremo in uno dei menu di Miiverse E con un piccolo caricamento Che devo dire non sono molto veloci i caricamenti Vediamo che questa persona ha fatto questo disegno Veramente molto carino E vi assicuro che non è facile disegnare Soprattutto per chi è negato come me Le persone che hanno fatto sì a questo post Il sì sarebbe come un mi piace E possiamo di conseguenza fare anche noi un sì Possiamo segnalare se la persona ha pubblicato uno spoiler Quindi un anticipo sulla trama del gioco Che può rovinare il gioco a qualcuno O segnalare una violazione Oppure mettere un commento sotto Ritorniamo al menu principale nel Miiverse E andiamo a vedere un pochettino invece Come funziona La piazza Vedete i caricamenti sono abbastanza lenti Questa è una cosa che non mi è piaciuta molto Di questa console Però non è Ah A posta di tornare alla piazza Vabbè sono tornato Sono entrato nel Miiverse Però vediamo anche questo Allora menu utente e il menu che ci riguarda Possiamo andare in alcuni gruppi E come potete vedere Sono divisi per videogioco Mario Bros Zombie U Call of Duty Assassin's Creed Eccetera eccetera Posso andare a vedere per esempio In gruppo di Zombie U Gruppo formato in questo momento Da 11.000 e passa persone Quelli che sono i post Delle persone Che giocano a questo gioco Notare Quello che scrivono Possiamo pubblicare un post A nostro piacimento Sia disegnando con il pennino incluso O scrivere un testo Oppure possiamo andare Nei messaggi E leggere i messaggi inviati E ricevuti Dai nostri contatti Oppure avere le notifiche Se ad esempio qualcuno ci aggiunge O qualcuno fa un sì Al nostro post Oppure ci richiede L'amicizia Riceveremo una notifica Torniamo al menu home Perché io Prima ho sbagliato Sono entrato nel universo Ma volevo entrare nel menu home Andiamo nel menu Wii Wii U E ritorniamo Dove eravamo Vi faccio vedere Una cosa molto carina Allora Queste sono le icone dei giochi Queste sono delle piccole Kik che a me piacciono Veramente molto Se premiamo il tasto R-O-L Spostiamo le icone Quindi le ordiniamo Secondo il nostro piacere Al nostro piacimento Possiamo anche far impazzire I gruppi Che si sposteranno Ed andranno di conseguenza A posizionarsi sotto le icone Che noi spostiamo Un'altra cosa molto simpatica E Queste sono tutte le persone Diciamo dal mondo I post dal mondo Magari penso che siano i più Diciamo più votati Più famosi Vedete che fanno dei disegni Veramente carini Non so come fanno Ma se ci avviciniamo Vediamo che ci sono Delle persone al centro Queste persone al centro Non sono altro che I nostri amici Infatti Io posso vedere Queste persone Che sono quelle Che io ho aggiunto Tra gli amici E il loro ultimo Aggiornamento di stato Vedete Questo è l'amico Pie Che chiede Come si prende La terza monetina In un determinato Punto Di Super Mario Vi faccio vedere Anche un'altra cosa Andando al post Di Pie Torniamo di nuovo Al Dentro al Mi Verse Vediamo una cosa Molto simpatica Allora Pie ha disegnato E come cavolo Si prende la terza monetina Arg Possiamo Andare Qui E vedere Che lui l'ha scritto Dalla torre Delle pietre mobili Che è Un punto Una specie di tag GPS Tra virgolette Del gioco Di Mario Bros Di Super Mario Bros Perché Nel momento in cui Noi stiamo giocando Possiamo pubblicare Non si possono effettuare Screenshot Da questa console Per lo meno Non per adesso Ma se noi siamo In un qualsiasi punto Possiamo premere Il tasto home E pubblicare Usando Il Questo GPS Faccio così GPS Che fa sapere Agli altri In che punto Ci troviamo nel gioco E anche se Lo decidiamo noi Uno screenshot Del momento In cui Abbiamo premuto Il tasto home Quindi è come pubblicare Sarebbe come pubblicare Uno screenshot Dire dove ci siamo E vedere Tra l'altro I No Ci sono già I post Fatti tutti In quel In quel punto Come se noi Facessimo un filtro Usassimo un filtro Per vedere tutti i tweet Fatti da Roma Da Milano Eccetera eccetera Torniamo alla home E Penso di aver detto Tutto sul Miiverse Credo che ci siano Altre funzioni Ma io per adesso Non le ho Utilizzate A parte far Impazzire Questa gente E Niente Non faccio altre Considerazioni Perché non voglio Fare né un video Lungo E né Fare considerazioni Su una console Che sto usando Solo da tre giorni Quindi Tranquillamente Adesso vi lascio E vi ho fatto vedere Questa era quello che volevo dirvi Su Miiverse